Luca Crescini Luca Crescini Luca Crescini Luca Crescini Luca Crescini Luca Crescini Tutti noi negoziamo. Scegliere un ristorante, decidere con la partner cosa mangiare, dove andare in vacanza, se concedere o no due ore in più di Instagram o di videogioco ai ragazzi, chiedere a un collega un cambio turno, chiedere al capo un aumento, chiedere uno sconto su un paio di scarpe, organizzare una partita di calcio o il gruppo del paddle. Ma anche sviluppare un computer mettendo assieme competenze diverse, progettare tecnologie complesse come può essere un treno ad alta velocità, un satellite, un farmaco. Noi siamo negoziazione. Ogni passo, ogni respiro della nostra vita passa per la negoziazione e la maggior parte delle volte non ce ne rendiamo neanche conto. Siamo negoziazione perché viviamo in un sistema di relazioni, un sistema che è quello umano basato sul collegamento tra le persone, che ci piaccia o no. Eppure siamo talmente, pur essendo talmente collegati alle dinamiche della negoziazione, tante e tante volte questo fenomeno ci crea disagio, fastidio, a volte conflitto. Ci sono infatti alcune tendenze naturali di fronte alla negoziazione. La prima è quella di rifugire, di scostarsi, di scappare al confronto, di chiudersi in una zona di comfort. Tanti di voi avranno probabilmente un parente o un amico che è abituato ad avere le sue abitudini. Di quelli che tu, se gli chiedi cosa fa il sabato o la domenica e gli proponi qualcosa di diverso, probabilmente vi risponderà che ha troppo da fare e che non può venire. Ma sei sicuro che se piombassi a casa sua la domenica pomeriggio lo troveresti col telecomando in mano sul divano. e poi ci sono quelli che io definisco i super engaged, quelli che hanno proprio voglia di negoziare, quelli che nella negoziazione trovano energia, che vogliono dirti la loro a tutti i costi. Quelli che, per dirti la loro, arrivano a consigliarti di non bere l'acqua gasata perché ti fa male. Ma lasciami stare. Bevo io, lo so bene cosa mi fa l'acqua gasata. Ebbene, negoziare vuol dire fare la fatica di spostarsi da una zona nota, da uno spazio proprio e personale, per andare a conquistare uno spazio diverso. Uno spazio che non è né tuo né suo. Magari nuovo, magari più largo, magari più ricco. Ecco, la negoziazione è un po' questo. Ed io ho la fortuna di fare questo mestiere, di scegliere di negoziare in un contesto molto particolare. Chi fa il mio mestiere infatti questo percorso lo chiama innovazione. La generazione di valore che viene dal confronto è quello che porterà più avanti i confini della conoscenza, i confini del progresso della nostra civiltà. Io lo faccio in un contesto molto particolare perché da tanto tempo mi occupo di mettere assieme due mondi molto diversi. Due mondi che viaggiano su dinamiche diverse, su obiettivi diversi, su criteri di misura diverse. lo chiamiamo technology transfer. È il mondo di chi avvicina la ricerca scientifica ai processi industriali, al mercato, di chi tira fuori da quei laboratori i trovati della scienza e cerca di trasformarli in prodotti che possono entrare nelle nostre, nelle case di ognuno di voi. Il vostro cellulare, il tessuto della sedia su cui siete seduti oggi, i fari di questo teatro. Tutte queste tecnologie sono passate attraverso un percorso che è il trasferimento tecnologico. Quando sei di fronte ai migliori scienziati al mondo, e siamo fortunati, l'Italia esprime sia sul fronte della ricerca che sul fronte dell'industria le migliori eccellenze mondiali. Bene, quando sei di fronte a dei robotici, ad esempio, e gli proponi di far diventare prodotto il loro lavoro, una piattaforma che ha insieme progettazione meccanica, elettronica, software, modalità di interazione nel parlato, l'intelligenza artificiale, machine learning, ecco, quando tutto questo deve diventare prodotto, beh, lì cominciano i problemi del technology transfer. Ciò che agli occhi di un imprenditore dovrebbe infiammare il cuore di ognuno, vedere la propria attività, il proprio lavoro, diventare prodotto, in molti casi incontra tentennamenti e a volte distacco. Siamo di fronte al criterio per cui due mondi diversi parlano linguaggi diversi. Ciò che per un ricercatore è la fine del lavoro, e cioè l'arrivo ad un trovato, la divulgazione, per un imprenditore è l'inizio di un lavoro che è l'industrializzazione, la ricerca del mercato, l'incrocio con le logiche della produzione e della produttività. linguaggi, priorità, codici culturali. Rischiamo di essere di fronte ad un disallineamento, ad un mismatch che rischia di disperdere in questa negoziazione tantissima ricchezza. Ecco, nel fare questo mestiere mi sono a lungo chiesto, dopo aver ascoltato ore di negoziazione difficili, come riuscire a mettere assieme questi due mondi? Qualcuno prima di me sicuramente si sarà imbattuto in questo stress. Ho studiato molto, ma non mi si è accesa la scintilla. Finchè a un certo punto mi sono imbattuto in una figura a me molto cara, che sin da ragazzo mi ha accompagnato, la figura di Ettore Majorana e del suo genio incompreso. Ettore Majorana per chi non lo conoscesse è un fisico teorico, nasce a Catania nel 1906 e cresce nella scuola di Enrico Fermi, tra quello che fu definito il gruppo dei ragazzi di via Panisperna, un gruppo di fisici che segnò un secolo di storia nel campo della fisica. Ettore Majorana, lo zio Ettore, di cui ero goloso dei racconti quando in famiglia se ne parlava. Ebbene Ettore era una persona particolarmente speciale, tanto speciale che lo stesso Enrico Fermi di lui disse ma poi ci sono i geni, come Galileo, Newton. Ebbene Ettore era uno di quelli. Majorana aveva quel che nessun altro al mondo ha. Nel breve periodo in cui abbiamo qualche traccia del suo lavoro, pubblicò nove articoli. L'ultimo di questi, pubblicato nel 1937, era talmente denso di significato e di contenuti che fu compreso quasi trent'anni dopo, grazie all'intervento di Edoardo Amaldi, che lo tradusse, lo mandò in inglese al fisico Franklin, il quale lo comprese e lo pubblicò sull'American Journal of Physics, strabiliando i suoi colleghi. C'era l'equazione infinite variabile, oggi utilizzata per descrivere campi di particelle. Ma ancora nei suoi appunti troviamo tracce dei gruppi matematici, prima ancora che per lo stesso lavoro Wigner vinse il premio Nobel. Troviamo l'indicazione della scoperta del neutrone, prima che per quel lavoro Chadwick vinse il premio Nobel. Troviamo, e ne abbiamo traccia ampia, della collaborazione con Heisenberg, che aveva vinto il premio Nobel per il principio di indeterminazione e che secondo Ettore andava corretto, andava esteso. E lo stesso Heisenberg lo invita a farlo, stupendo Ettore, che era schivo e che non aveva nessuna voglia di far vedere il suo lavoro in genere. Oggi quel lavoro prende il nome delle forze di Heisenberg-Majorana. Così come quando si confrontò con la teoria dei neutrini e degli antineutrini, per la quale Dirac aveva vinto il Nobel, lui formula una matematica, un'algebra, che supera una limitazione della teoria di Dirac artificiosa, come il mare di Dirac. Ettore era costantemente in anticipo sui suoi tempi, una mente straordinaria ricca di tantissime, tantissime scoperte. Eppure era schivo. Doveva trovarsi in un suo ambiente, aveva bisogno dei suoi linguaggi, dei suoi codici. Probabilmente l'apice della sua carriera, felicità scientifica, l'ha raggiunta nel 1933, quando in quegli anni aveva possibilità di relazionarsi con geni come Enrico Fermi, che riusciva a interagire con lui, come Heisenberg all'Ipsia, dove andò a lavorare. O come i fisici della scuola di Copenhagen, dove Bohr aveva raccolto i più grandi fisici del suo tempo. Un periodo felice carico di progetti, si leggono nelle sue lettere. E la domanda a questo punto è, ma cosa successe? Cosa successe perché di lì a qualche anno un genio così straordinario decide di sparire senza lasciare traccia di sé? Non ho una verità per voi questa sera. Eppure probabilmente avrà inciso il fatto che i tempi intorno a lui erano cambiati. In Italia c'era il fascismo, entravano le leggi razziali, vi erano i venti di guerra. Ma a mio avviso più di ogni altra cosa, a Lettore in quel momento mancò the man in the middle. L'uomo di mezzo, qualcuno capace di aiutarlo a negoziare con il mondo intorno a sé. Qualcuno che gli consentisse di relazionarsi, di uscire dal suo spazio, di parlare la sua lingua e di entrare in relazione con il mondo intorno. Ebbene, allora probabilmente nello scegliere il mestiere che faccio oggi la figura di Ettore è stata preziosa. Perché lì che ho capito che a volte, accanto al genio, hai bisogno di avere the man in the middle, chi aiuti quella persona a relazionarsi col mondo, a svolgere la sua negoziazione, a entrare in relazione per non disperdere ricchezza. E allora vi dico, quando di fronte a una negoziazione avrete la tentazione di chiudervi perché non avete voglia di confrontarvi o di affermare la vostra verità, perché sapete già la risposta, fatevi una domanda. Chiedetevi che cosa stia succedendo. Se per caso non sarebbe meglio ascoltare, fatevi venire il dubbio. Cercate chi vi fa venire il dubbio perché da loro si impara e si crea valore. Provate ad essere anche voi. The man in the middle. Grazie. 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 Grazie.